Parliamo anche con Giulio Valente del pareggio di oggi, l'attacco è sotto accusa oggi per i tanti gol sbagliati, l'impegno c'è stato tantissimo al 100%, questo lo hanno riconosciuto tutti, però c'è il dato di fatto di tanti gol sbagliati. Sì, sì, devo fare anche la mia colpa, ho sbagliato due occasioni dove potevo fare sicuramente meglio, in una sulla punizione è stato bravissimo il loro portiere, però rimane il rammarico perché erano tre punti alla portata per come è andata la partita. Una partita giocata anche discretamente bene, credo non ci sia poco da riproverare alla squadra. Sì, sì, anche secondo me, loro pericolosi poche volte, forse qualche ripartenza, però azioni sporadiche e il palo alla fine su una punizione inventata dall'arbitro. Abbiamo tenuto il pallino del gioco, ci è mancato il killer instinct. Quindi questo pareggio insomma viene un po' ancora a fossarvi di più psicologicamente, poi volevo anche chiederti come mai così tanti gol sbagliati secondo te, tante occasioni sbagliate, perché la squadra non è tranquilla, perché correte troppo lì davanti, magari arrivate un po' stanchi lì in area, ti sei dato una spiegazione? A saperlo forse avremmo già risolto il problema da tempo, sicuramente quello che posso dire non si fa apposta a sbagliare gol e che ce la si mette sempre tutta nell'allenamento per migliorarsi. Poi lo sapete anche meglio di me che le partite si risolvono sugli episodi, un centimetro più in là si fa gol e a volte un centimetro in meno si sbaglia. Quindi però voglio dire che secondo me questa squadra merita di più, merita più rispetto perché comunque si impegna sempre, da sempre al 100% e penso che su ben giocata 30 partite abbiamo spesso avuto supremacia sugli avversari, giocandocela sempre alla pari se non addirittura meritando la maggior parte delle partite. Quindi bisogna continuare così e cercare di finire il campionato nel miglior modo possibile. L'ultimissimo punto sul finale del campionato, come si trovano le motivazioni per finire bene? Le motivazioni le abbiamo sempre avute, dobbiamo cercare di fare più punti possibili anche perché mancano 5 partite, sono 15 punti a disposizione e partite comunque non fantascientifiche. Quindi dobbiamo lavorare e basta.